Io ti servo, ma con calma, cioè tu stai calmo. A Conch Run. Estremamente traumatico. Ciao ragazzi, io mi chiamo Sidney, benvenuti sul mio canale Sit sul Tubo. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti e accendi le notifiche. Ho sottotitolato questo canale Lingua e Luoghi Persone. Perché oltre a parlarti della Russia, di cui ti parlo in una rubrica a parte, che si chiama Russaliana, volevo parlarti di lingua, luoghi e persone, che sono tre cose che sono molto importanti nella mia vita. E vabbè, sto dicendo mani di cagate. In questo podcast di oggi, che io ho intitolato Dialoghi, vorrei presentarvi una persona, che ho conosciuto grazie al suo canale YouTube, che mi è piaciuto molto. Il canale si chiama Victoria Freak Show. No, Victoria, Victoria Freak Show. Il canale si chiama, scusa, non so come si chiama il canale. Ti preoccupare, tranquilla. Il canale si chiama Victoria Freak Show. Mi è piaciuto molto. Io sono arrivata a questo canale grazie a un video che mi è comparso nel feed, fallire a 30 anni. Era un tema nel quale mi sono molto ritrovata, nonostante di anni non ne abbia più 30. E poi dopo abbiamo deciso, io e Toshio TV, di contattare Victoria per parlare un po'. Questo canale mi era molto interessato per l'argomento del fallire a 30 anni e ho deciso di parlare un po' con Victoria di una sua esperienza in particolare, un'esperienza all'estero, perché voglio dire lingue, luoghi, persone, di che cosa dobbiamo parlare, non solo delle lingue, dei luoghi, delle persone dell'Italia, ma anche di altri paesi. E mi aveva incuriosito molto di Victoria, che in questo video fallire a 30 anni lei raccontava di un'esperienza di lavoro in Cambogia. La Cambogia è un paese che io, come molti altri, non ho mai visitato. E poi parlando con Victoria ho scoperto che c'erano anche delle difficoltà particolari che lei ha avuto rispetto a questa esperienza, difficoltà linguistiche. e nei limiti di questo argomento del fallire a 30 anni io volevo intervistare Victoria e condividere con voi la sua esperienza e il suo sguardo particolare su questo paese che lei ha visitato. Ciao Victoria, come stai? Ciao, tutto bene, sono felicissima di essere vostra ospite, vi ringrazio tantissimo per avermi proposto questa collaborazione, grazie. Grazie a te. Cominciamo con la prima domanda che volevo farti, che è come ti sei trovata a lavorare in Cambogia? Com'è successo? Allora, tutto è successo perché il mio ragazzo del tempo, che in realtà anche il mio ragazzo attuale, mi ha lasciato ed è partito. Mi ha lasciato nel 2000, tra il 2018 e il 2019, è partito, ha fatto una vacanza in Cambogia e poi ha deciso, insomma, la Cambogia lo ha, in un certo senso, un po' ricollegato con se stesso, insomma, lo ha portato di nuovo da me. Quando è tornato da me, mi ha chiesto appunto di ricominciare la nostra relazione e di andare a lavorare in Cambogia, perché sull'isola di Korong, che è appunto una piccola isoletta tropicale, gli era stato proposto di lavorare in un bar e in una serie di bungalow, insomma, una specie di hotel con alcuni bungalow che si possono affittare, dove era possibile anche fare colazione e via dicendo. Quindi, sostanzialmente, è tornato da me e mi ha detto, ti va di andare a vivere sull'isola tropicale e lavorare? Sì, andiamo. Capito, e quindi tu ti aspettavi di andare in un'isola tropicale? Cioè, questa è la tua aspettativa. Oltre a fare un'esperienza di lavoro, tu avevi desiderio di fare l'esperienza sull'isola tropicale? Sì, diciamo che da sempre sono sempre stata molto sia appassionata all'Asia, anche se non ho fatto tanti viaggi in Asia, ma mi è sempre piaciuto l'idea di vivere su un'isola tropicale, al caldo, di visitare un posto così bello. Volevo un po' provare, in un certo senso, la vita anche un po' da nomade, un po' una vita fuori dal comfort, mettiamola così. Ci sono state delle difficoltà burocratiche per trasferirti per lavoro? Cioè, se una delle persone che ci sta seguendo decidesse di trasferirsi in Cambogia per lavoro, che cosa si fa per andare in Cambogia per lavoro? Ti parlo della mia esperienza, nel senso che Korong, che è appunto una piccola isoletta della Cambogia, funziona in un certo modo. Non so esattamente se funziona allo stesso modo anche sulla terraferma, perché noi abbiamo semplicemente dovuto chiedere un visto turistico, normale, prima di un mese. Siamo andati appunto a lavorare lì e dopo la fine di quel mese lì siamo dovuti uscire dal paese, andare in Thailandia e ritornare, fare un visto business di quattro mesi. ma non abbiamo dovuto presentare un contratto di lavoro. Era tutto molto tramette. All'acqua di rose. All'acqua di rose. Quindi è bastato dire, sì abbiamo un lavoro, non importa né dove, come e quando, né presentare un contratto e basta. Devo dire che questa situazione spesso avviene anche in Russia, purtroppo, perché poi dopo capita anche che qualcuno abbia delle difficoltà, però diciamo che ci sono questi buchi nella legge, nel senso che da un lato è una cosa che sarebbe illegale, però non c'è un modo di farlo legalmente, allora ci si arrangia in qualche modo, no? Ti ritrovi a lavorare. E ok, quindi per quanto riguarda invece i contatti, il viaggio, l'alloggio, come vi siete gestiti? Allora, semplicemente appunto il posto di lavoro in cui il primo posto si chiamava, no forse meglio se non lo dico come si chiamava, comunque era appunto questo posto dove c'erano questi bungalow dove potevi soggiornare e poi ti offriva anche, ti dava pranzo, cena, colazione, il bere. Abbiamo semplicemente, appunto il mio ragazzo essendo lì è stato proposto, ma perché non lavori qui? E quindi questo che poi è diventato un suo amico gli ha detto io lavoro qui da anni perché non venite e insomma potete lavorare entrambi. È stato molto semplice da quel punto di vista. I patti ovviamente erano differenti all'inizio perché c'era stato detto che avremmo avuto un certo stipendio ma poi in realtà non è andata esattamente così. Quindi le tue aspettative di trovarti su un'isola tropicale si sono realizzate? Nel senso tu hai trovato sull'isola tropicale quello che ti aspettavi da un'isola tropicale? Sì, sicuramente sì. Ho trovato tutto quel lato che più forse mi premeva che era quello appunto di un posto sperduto, di un posto dove non ci sono strade, dove non c'è niente di quello di cui noi siamo abituati. È solo giungla con il villaggetto all'estremo, le spiagge bianche, tutto molto free, tutto molto libero. Era veramente diciamo un'avventura se così vogliamo. Da un certo senso invece mi è dispiaciuto molto perché speravo di poter stare lì più a lungo proprio perché se avessi avuto un lavoro con uno stipendio migliore sarebbe stato più semplice. Noi tra l'altro come Vitto e Alloggio stavamo proprio all'interno della struttura per la quale lavoravamo. Loro ci hanno dato un bungalow, era molto carino, semplicissimo, non dovete aspettarvi nulla di che, però un bungalow semplice con il bagno, il water, il soffione dalla quale usciva la doccia e poi il letto, ok? E ci davano loro da mangiare e tutto, insomma. Mi ricordo durante la telefonata che abbiamo fatto per organizzarci che mi raccontavi che, sì, da un lato avevi trovato l'isola tropicale però dall'altro avevi trovato molta illegalità e avevi trovato molti cinesi. Mi vuoi raccontare di questa storia? Perché mi è affascinato molto? Perché ho pensato proprio al fatto che magari ci si aspetta da un'isola tropicale, no? Una specie di oasi, spiagge pulite, natura incontaminata, tranquillità e invece magari ti sei trovata a lavorare tu stessa come un'operaia cinese e poi ad avere poco tempo per goderti quest'isola o magari hai trovato qualcosa su quest'isola che non ti stava tanto bene. Allora, sì, ti racconto. Quando sono arrivata appunto sull'isola avevo tutta una certa idea, ovviamente, di come sarebbe stato. Poi però, piano piano, mi sono accorta appunto che c'erano per esempio le spiagge stupende in conto bellissime, bianche, favolose e c'era tanta tanta spazzatura. Sapevamo già che era un discorso sia legato alle correnti ma anche legato sia alla popolazione del luogo dove comunque ci dobbiamo aspettare appunto una popolazione, i Khmer sono ancora un po' più indietro se così si può definire, non sono ancora neanche così tanto abituati al turismo come può essere la Thailandia o in generale non hanno ancora un modo per esempio per smaltire la plastica quindi capita spesso che si butta la spazzatura in mare piuttosto che sulle spiagge e via dicendo. Però la sorpresa ci fu quando appunto mi accorsi che durante appunto mentre ero in servizio notai una piccola, piccola, media barca arrivare sulla spiaggia e vedi appunto questi insomma scopri che arrivavano in massa tanti cinesi sull'isola per fare la vacanza solo che non era solo un classico insomma turismo ma c'era dietro qualcosa di molto più importante vi spiego meglio praticamente la Cina è come se usasse un po' Korong e anche in generale gran parte della Cambogia come un luogo dove costruire casino proprio perché in Cina non è illegale avere dei casino non so esattamente per quale motivo hanno un po' puntato la Cambogia e hanno deciso di costruirci tanti casino lo hanno fatto a Seahacknowville che scusate la pronuncia non so se è la pronuncia giusta che viene chiamata da tutti quanti Shitville per darvi un'idea che è una città proprio purtroppo sulla costa cambogiana che era meravigliosa come Korong con queste spiagge bianche stupenda che è stata completamente rasa al suolo dai cinesi che l'hanno lasciata proprio come un vero e proprio cantiere aperto cioè mai concluso nella quale loro poi costruiscono e costruiscono casino attività ma senza avere la minima cura del luogo allo stesso modo loro arrivavano appunto in massa con queste grandi barche sull'isola e si disponevano per esempio nel nostro hotel se così possiamo definirlo prendevano le loro griglie le loro cose e in massa si mettevano tutti sulla spiaggia senza neanche usufruire appunto dei servizi effettivamente del nostro ristorante e si spostavano così in massa era una situazione molto particolare perché non vi era mai capitato di vedere un gruppo così grande di persone spostarsi contemporaneamente e in un certo senso un pochino fregarsene delle attività che c'erano davanti assolutamente nulla buttavano tutta la spazzatura tutti qualsiasi cosa per terra una volta uno venne da me mi guardò e mi disse ehi tu pulisci indicandomi per terra veramente? sì sì perché sapeva che lavoravi lì? perché sapeva che lavoravo lì ma in realtà lui ripeto non stava neanche praticamente usufruendo dai servizi dei ristoranti cioè loro era come fossero a casa loro serva serva e quindi insomma piano piano mi accorsi che questi turisti insomma cinesi arrivavano sempre più più spesso sempre tutti in massa lasciavano tanta spazzatura e poi mi resi conto effettivamente andando a Siaknubil quale era la situazione ovvero questa quasi colonizzazione in cui i cinesi avevano comprato gran parte dei territori dai cambogiani e quindi deturpando anche il paesaggio immagino perché costruiscono questi formicai perumani esatto tu mi raccontavi che hai lavorato in lingua inglese in Cambogia a me interessava un po' sapere dal tuo punto di vista qualcosa del panorama linguistico in Cambogia e quindi dal tuo racconto ho capito che per lavorare in Cambogia in realtà è essenziale conoscere l'inglese soprattutto se lavori nell'ambito del turismo e della ristorazione che esperienza hai avuto da questo punto di vista cioè hai avuto delle difficoltà con il tuo inglese e come te la sei cavata tu personalmente? allora io sono partita senza sapere una parola di inglese sì non sto scherzando infatti la mia idea era anche quella di trasferirmi e lavorare all'estero proprio per imparare inglese la cosa positiva era che ho scoperto che lavorando come cameriera diciamo ci si riusciva a capire lo stesso e a lavorare perché insomma quando la gente ti dice il nome dei piatti basta che tu te lo segni in qualche modo e capisci come fare è stato veramente una full immersion cioè così partire come una sprovveduta senza sapere neanche la lingua e buttarmi in questa avventura ammetto che sicuramente se tornassi indietro sarebbe meglio fare un viaggio da soli senza nessuno che parla italiano perché sicuramente questo può essere un limite per l'apprendimento in quanto io attualmente non mi sento per niente capace di parlare in inglese perché penso che sì ho allenato la lingua ma lavorando anche con il mio compagno parlavamo comunque tanto in italiano facciamo servizi insieme quindi ci sono state delle difficoltà avevi un punto un punto di appoggio no? esatto e i vostri colleghi in che lingue parlavano? i nostri colleghi alcuni erano addirittura i primi colleghi che abbiamo avuto erano dei ragazzi cambogiani che parlavano Khmer ovviamente tra di loro e poi masticavano appunto un po' di inglese non tantissimo però ne lo parlavano sicuramente meglio di me ecco quindi con loro comunque dovevi parlare in inglese cioè ti toccava sì sì ho usato un po' ovviamente ho imparato qualcosa in inglese ho comunicato con chi mi stava intorno però sicuramente ecco se vai da sola impari meglio ma loro lo parlano bene in inglese i cambogiani come diresti secondo te cioè sono un buon modello se tu vai lì a lavorare pensando ah lavoro e già che ci sto imparo un po' di inglese no? com'è il loro inglese? non tanto cioè non è così tanto penso che in Thailandia che ne so o a Bali lo parlino molto meglio proprio perché come ti dicevo sono molto più abituati in quei paesi al turismo la Cambogia sì a turismo da molti anni ma non quanto quegli altri paesi quindi l'approccio è diverso detto questo però appunto è importante dire che a Korong era un'isoletta dove tante attività sono fatte non solo dai cambogiani ma specialmente anche dagli stranieri io per esempio il primo posto dove ho lavorato era di un datore di lavoro turco per esempio quindi in realtà poi ti interfacciavi anche con tante culture diverse con ragazzi provenienti da ogni parte del mondo più che con i cambogiani stessi ecco ok ok e quali sono però cioè ho capito che diciamo ti sei ti sei ritrovata a vivere in un posto in cui c'era un crocevia di cultura no? turchi cinesi e soprattutto probabilmente per il settore in cui ti sei trovata a lavorare però essendo comunque stata in Cambogia quanti mesi mi dicevi quattro mesi cinque mesi cinque mesi è una bella quantità di tempo che cosa ti ha affascinato di più della lingua e della cultura locale cioè questa lingua Khmer com'è come ti suona e hai avuto modo di vedere un po' le abitudini proprio della gente del luogo sì assolutamente allora a me piace tantissimo il mood di questa popolazione perché sono estremamente rilassati ma proprio a un livello che noi ci segniamo soltanto mi aveva proprio sorpreso come a prescindere da che lavoro si svolgessero cioè i poliziotti quelli che guidavano il tuk tuk per esempio piuttosto che la gente che lavorava al mercato tutti quanti avevano questo mood completamente di relax totale cioè io ti servo ma con calma cioè tu stai calmo quando ho tempo quando ho tempo c'è una popolazione veramente di una tranquillità almeno quello che ho sperimentato io fantastica questa è una cosa che ho apprezzato molto per quanto riguarda la lingua invece devo dire che ha un suono molto particolare il Khmer perché non so se ti è capitato di sentire se ok è una perdonami che io sono un po' dislessica mi confondo come si dice quando ci sono tante consonanti c'è tante K Sì consonanti tutte vicine vuoi dire esatto è una lingua secondo me molto piena di consonanti infatti la cosa che mi stupì molto sia a me e il mio compagno era il fatto che ascoltammo delle musiche Khmer cambogiane ed è strano sentire parlare una sentire parlare cantare una canzone con poche vocali cioè difficile così in un certo senso sì non lo so almeno questa è stata la mia impressione era una lingua estremamente differente dalla nostra c'è proprio un altro mondo hai imparato qualche parola in Khmer così per svizio allora se non mi sbaglio c'era Akunch Run Akunch Run mi pare che è grazie e poi non mi ricordo più perché è passato troppo tempo sì sì no beh quello è lo sfizio io a volte vado mi capita di andare in posti e di imparare parole random che poi dimenticherò solo per lo sfizio di sentirmi una del posto per un millisecondo lo facciamo lo facciamo tutti come anche imparare di solito le parolacce nella lingua così dove sei però quelle non me le ricordo ok e come è stato per te il rientro in Italia dopo questa esperienza estremamente traumatico estremamente traumatico perché appunto in realtà non era mia intenzione tornare cioè nel senso non volevo tornare in Italia a lavorare ma non potevo in quel momento rimanere in Cambogia e quindi devo dire che non è stato piacevole è stato un bel trauma posso chiederti come mai non potevi rimanere in Cambogia per il visto per altre questioni per i fondi perché ripeto i piani non erano stati non guadagnavamo abbastanza per riuscire effettivamente a stare lì a lungo termine e poi devo dire un'altra cosa poi c'è un video in cui tu racconti questa cosa che magari potremmo postare qui c'è un video in cui racconti questa cosa devo dire che una nostra scelta anche importante nel tornare è stata siamo tornati perché ci siamo resi conto che Korong era un luogo dove era bello si vivere era bello accontentarsi di una vita semplice perché quello che guadagnavamo ci bastava per mangiare quel poco che mangiavamo e per vivere però abbiamo capito che quello era più un luogo di arrivo quando magari vuoi veramente dire ok non voglio più costruire niente mi accontento di vivere su una spiaggia non voglio non ho nessuna prospettiva diciamo per il futuro infatti tanti dei ragazzi o delle persone anche più grandi che lavoravano lì erano persone che avevano in un certo senso un po' abbandonato i sogni è brutto da dire e uno si immagina il contrario dice vado in cambogia è un punto di partenza voglio l'isola tropicale e invece no in realtà no perché appunto ripeto l'isola era molto piccola le attività sì ci sono ma a meno che tu non faccia che ne so tu sia un professionista subacqueo piuttosto che tu abbia una professione in mano di quel tipo ok che puoi spendere difficilmente puoi fare altro piuttosto che fare il cameriere o lavorare in questo settore non hai troppi sbocchi ecco infatti tanti degli amici che ci siamo fatti lì appunto erano ragazzi che avevano deciso di accontentarsi di una vita semplicissima e invece quanti anni avevano se posso chiedere l'età media di queste persone di cui stai parlando che si sono rassegnate 40 anni 35 20 50 60 ok per far capire che non ci si rassegna sempre alla stessa età esatto esatto però attenzione dico anche un'altra cosa ovviamente c'era cioè quella quello è un posto dove si può anche aprire delle attività quindi anche c'erano tanti stranieri appunto come il mio primo datore di lavoro turco poi la seconda datrice di lavoro che era canadese che appunto volevano investire i soldi e avevano aperto delle attività lì quindi attenzione nel senso che chi magari ha un'idea di business precisa vuole aprire un ristorante o questo tipo di attività lì può essere interessante insomma se sei già ricco se sei già ricco quello è il problema o se devi riciclare del denaro insomma capisci a me a umma umma puoi andare a coronga ad aprire un'attività capito quindi tu in generale insomma volendo fare un punto tu consiglieresti un'esperienza di lavoro in cambogia a chi la consiglieresti perché o perché no allora la consiglierei io consiglio a prescindere veramente penso che viaggiare e lavorare all'estero tranne che magari in rarissime eccezioni sia sempre una buona idea perché ti metti a confronto con te stessa impari a prescindere un sacco di cose nuove io sicuramente comunque consiglierei di andare a coronga anche per il lavoro magari i ragazzi giovani che vogliono farsi un'esperienza non a lungo termine magari ecco voglio stare tre quattro cinque mesi fuori voglio vivere un po' da nomade da hippie ok lavorando allora ti dico sì quello è il posto giusto per te niente da togliere ovviamente a chi invece ha una professione in mano che può essere spesa in un luogo come quello come ripeto chi ripara le barche chi fa l'insegnante di strutture di diving tutto quel genere di attività invece a maggior ragione consiglierei di andare lì ecco vuoi dire qualcosa per concludere vuoi aggiungere qualcos'altro per gli iscritti di Seed sul tubo iscrivetevi 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 a Seed sul tubo vi consiglio a tutti quanti se avete la possibilità viaggiate rischiate perché ne vale assolutamente la pena sì guardate il mondo oltre gli stereotipi oltre le cose che magari vi ha già raccontato qualcun altro per poter sapere qualcosa di persona per poter avere informazioni di prima mano e che la prima mano sia la vostra se non l'avete fatto ancora sì iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video ciao oltre a questo podcast potete vedere una seconda parte del podcast che abbiamo girato insieme a Vittoria in cui parliamo sul suo canale delle mie esperienze lavorative vediamo a presto a presto Grazie per la visione!